Ciao ragazzi, ciao ragazze, come state? Bentornati o benvenuti sul mio canale, io sono Kia e sono qui per farti rilassare. Oggi vi propongo un altro videotag, come avete potuto vedere dal titolo. Il videotag in questione è stato creato da Aurora KSMR e da Amelie ASMR e io sono stata taggata da Aurora, grazie Aurora, è stata molto carina. Il videotag si chiama il suono dei colori, un video molto 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 interessante, molto carino. E in cosa consiste? Nel creare dei trigger con oggetti di diversi colori. Sono sette, abbiamo l'arancione, il bianco, il rosso, il giallo, il rosa, il blu o azzurro, anzi mi sa che loro l'hanno definito celeste e il verde. Quindi regole molto semplici e a mia volta taggo tre ASMR artist che non credo di aver ancora taggato nei miei video precedenti. Non sono sicurissimissimissimissimissimissimissimissima. Comunque di solito quando scelgo chi taggare lo faccio proprio con in mente il tag, ovvero secondo me questa persona potrebbe farlo bene oppure mi piacerebbe molto vedere questo tag da questa persona. Quindi per questo video io taggo Lori ASMR, Apple Tingles ASMR e Shanti ASMR. Vediamo se poi loro lo faranno. Spero proprio di sì. Ma bando alle ciance e ciancio alle pande. Iniziamo con il video. E voglio iniziare con il colore verde perché avevo già in mente l'oggetto da utilizzare e anzi lo volevo utilizzare per un video e quindi ne approfitto. Cosa sono i guanti da cucina? Mettiamoci i guanti. Una cosa che mi piace di questi guanti è che sono tutti sicrinati, non so come dire. Mettiamoci i guanti. Mettiamoci i guanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il lamento del guanto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adoro questi guanti perché hanno tutto questo rilievo. Quando li ho comprati, non ci avevo fatto caso in realtà, li ho indossati per lavare i piatti. Ha detto, wow, questo è fantastico. Devo assolutamente usarlo per un video. E eccomi qui, con i miei guanti da cucina. E anche il colore in questo video è fantastico. L'adoro, l'adoro, wow. Peccato che non si possa vedere. Rimane sfocato però sì. Passiamo al prossimo colore. Andiamo sul giallo. Ok, 3 e 1 per il colore giallo. Ok, non ho trovato una cosa molto gialla, gialla, gialla. È più un ocra. Però ho questa borsa. Ok, non ho trovato una cosa. 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 Grazie. Sembra quasi una piacerellina, l'ho trovata. Grazie. 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 Bene, passiamo al prossimo colore e penso che tornerò in cucina e vado con il blu. 3, 2, 1. Eccoci qua e ho preso una spugna azzurra da cucina. Vediamo che suoni possiamo farci. Grazie. 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 E adesso passiamo al colore rosa. 3, 2, 1. Via. Eccoci qua. Anche qua rimaniamo un po' in cucina, che dite? Elastici rosa. Elastici rosa. Questi li ho usati in un video e li ho voluti riproporre qui. Uno qui. Sono rosa. E due perché mi piace molto il suono degli elastici. Andiamo con quello più scuro. Pronti? Penso che con un elastico più piccolo si riesca a creare un suono ancora più forte. Questi qua sono un pochino lunghi, quindi per stenderli bene devo avere forte le braccia. e allora che ragazzino, in una stanza spazia, serveaz il suoGGio a fare tratta delle strutture peiciche, una sudoku con linguaggio per intendo. E poi risp fatta le braccia tra il peso migrato di ghiacere usato il tragare le braccia. Si ceva troxa color, riproporre le braccia delle braccia. La Principamenteodenate le braccia dove retroche dauere le braccia. Composa cosa che si tro mitigano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Comunque vi lascio dei link a video con i suoni che state sentendo. Così se volete approfondire un suono che vi è piaciuto, che vi piace, potete trovarlo in un altro video. Adesso passiamo al... facciamo il bianco, che dite? Quindi, tre, due, uno... e per il bianco ho scelto un'agenda. Ok, davanti c'è un disegno, quindi lo faccio vedere da dietro così rimane bianco. Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E dopo questo tapping e scratching intenso sulla mia agenda? No. Passiamo al prossimo colore, che è l'arancione. Siete pronti? Tra due, uno, via. Che se li ricorda? I palloncini cuorezzini. Per l'arancione ho in alto il palloncino cuorezzino per il semplice motivo che non trovavo niente di arancione. Non trovavo niente di arancione come è possibile. E quindi... 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 ovvero il rosso questo è il mio oggetto rosso anche se è un po' scolorito ormai da quando l'ho usato questa è la mia spazzola per la doccia la uso nella doccia è super super comoda e si è anche abbastanza pieghevole e soprattutto riesco sempre a pulirla non ci rimane mai neanche un capello sopra quindi perfetta ve la consiglio per la doccia ragazzi o ragazzi se avete i capelli lunghi e quindi Sì Sì Ma vediamo un po' se mi spazzolo i capelli L'altra spazzola si sente di più di questo Vi lascio un link ad un video no talking in cui mi spazzolo i capelli Molto rilassante per me, molto rilassante Eh ma questa non va molto bene L'altra spazzola che uso nell'altro video è molto meglio per i capelli Si sente molto più a fuori il suono L'altra spazzola L'altra spazzola L'altra spazzola E con questo, con l'ultimo colore di questo video tag Io vi saluto Spero che questo video vi sia piaciuto Fatemelo sapere nei commenti 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 Se non l'avete fatto Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Cliccate la campanellina Cliccate la campanellina Così rimarrete aggiornati su tutti i video che usciranno E se mettete anche un mi piace al video Sarò molto 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 contenta Ovviamente se vi è piaciuto il video Se non vi è piaciuto non vedete niente E ci vediamo al prossimo video Io vi mando tanti, 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 La suono dei colori